Buongiorno, buon pomeriggio, video scorso finito male perché abbiamo superato i 50 minuti e adesso faremo questo round al diavolo vi posterò dopo il round che faremo e poi tranquilli farò anche una partita da solo su città perché non ci vuole più, non ci desidera perché si è reso conto che gioco meglio da solo chi vuole camminare solo chiunque, è impossibile no, se fai una bella notata ti ritrovi da solo sì, anch'io che trovi da solo no, se te sapevi più abilità sui cani ti faccio vedere, ti provano un po' ma allenate un po' più bene c'è prescritto, ho visto un video di due su città che con i cani è arrivata al 29 che è che c'è questo come stagia adesso nessuna? non c'è, è tranquillo non abbiamo preso i due punti che sono là in fondo non ho messo, che sarebbe uscito il pack a punch sì come in tutte le mappe zombie la cimietta ma adesso lo sterbe pt ma sta convincendo poco quella è roma atomica però no, quella non è roma atomica c'è il tesco, c'è anche la remunizione no, c'è anche la bomba vedi, non ho visto che caccia di tutti i bravori eh, ragazzi, che vi posso dire? ma per istante io direi che il ground potrebbe essere finito qua vediamo ottavo sì, ed è un video da un minuto quindi ne faremo un altro perché non posso stare un video da un minuto ne roma di no a meno che la pilla non ci abbandona e in quel caso implicherò Aristotele dicendo tonne Aristotele perché Aristotele che è un tonne che è che mi viene da coprire? perché mi stai davanti? devo cambiare arma la cambi dopo, la cambi dopo ma come fai a cambiare arma ora? io non capisco devi dirlo prima noi c'abbiamo le almone ah, c'è il cecchino, guarda sempre guarda è bellissimo quando prende il fiato sento il rumore che è guarda ti guarda, vediamo che il sentito diventa il lamento cioè i nomi più epici potenziati perlmeno abbiamo fatto vedere che siamo stati capaci di arrivare al 10 camperando come il merito come fa il vitorlano come la partitura connessione qualcuno mi aiuti capito? ci hai in posto, posso mettere il vitorlano quando uno non ha più munizioni sono problemi al limite trovo ah, ci c'ho che ha del pd, c'è una torta figa e non so non so non ci diamo non lo facciamo le casse ci attendiamo con mancianà eh, bravissimo bravissimo vedi quando vai spagata si può che sta venendo un piccolo sabato che ha caduto l'elotto cioè 10. si che ormai da mezzanotte tutti che l'amunizio chiesa sofferti le scatole che avrebbero fatto comodo l'amunizio stupendo una roba epica cerotipo che dovrà stare due giorni con il computer acceso fino a sera per caricarle come due parti in cui abbiamo fatto veramente pena e niente round 10 video di 4 minuti che vi posso dire qualche parere vostro niente non direi proprio di no abbastanza schifo quanto schifo ma tanto essere abbastanza deprimente vabbè depressione caucasica allenati con i cani soprattutto ma i cani così Danilo parlerà sperando e niente volete salutare? dai alla prossima allora arrivederci arrivederci ciao ciao ciao